Le migliori citazioni di Ernest Hemingway Un uomo intelligente a volte è costretto a ubriacarsi per passare il tempo tra gli idioti. L'uomo non è fatto per la sconfitta. Un uomo può essere distrutto ma non sconfitto. Non bisogna giudicare gli uomini dalle loro amicizie, Giuda frequentava persone irreprensibili. Amo scrivere. Amo il suono e la suggestione delle parole quando si intrecciano con i sentimenti. Mai pensare che la guerra, non importa quanto necessaria, non importa quanto sia giustificata, non sia un crimine. La vita di ogni uomo finisce nello stesso modo. Sono i particolari del modo in cui è vissuto e in cui è morto che differenziano un uomo da un altro. Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare. Ora non è tempo per pensare a ciò che non hai. Pensa a quello che puoi fare con quello che c'è. Amo ascoltare. Ho imparato un gran numero di cose ascoltando attentamente. Molte persone non ascoltano mai. Siamo tutti apprendisti in un mestiere dove non si diventa mai maestri. Tutto in lui era vecchio tranne gli occhi che avevano lo stesso colore del mare ed erano allegri e indobiti. Preferisco un nemico sincero a gran parte degli amici che ho conosciuto. Non è me importava che cosa fosse il mondo. Volevo soltanto sapere come viverci. Forse, se scoprivi come viverci, imparavi anche che cos'era. Le donne possono essere amiche meravigliose. Assolutamente meravigliose. Ma prima di tutto, perché l'amicizia abbia una base, bisogna che di una donna tu sia innamorato. Il vino è uno dei maggiori segni di civiltà nel mondo. Tutte le nostre parole a causa di un uso disinvolto hanno perso il loro acume. Il dono più essenziale per un buon scrittore è un rilevatore di stronzate, innato e da prova di bomba. Questo è il radar dello scrittore e tutti i grandi scrittori ce l'hanno. Essere uomo è un mestiere difficile, soltanto pochi ce la fanno. Preferisco piuttosto essere capace di apprezzare cose che non ho piuttosto che avere cose che non sono capace di apprezzare. Fai sempre da sobrio ciò che hai detto di voler fare da ubriaco. Questo ti insegnerà a tenere la bocca chiusa. Quello che conta non è tanto quello che impari, quanto la gente che incontri. Non confondere mai il movimento con l'azione. Per poter scrivere della vita, prima devi viverla. È facilissimo reagire con freddezza alle cose durante il giorno, ma di notte è tutto un altro discorso. Non c'è animale più libero del gatto, eppure seppellisce la sua porcheria. Il gatto è l'anarchico migliore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.